Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla protesta dei lavoratori dell'indotto della raffineria di Gela che oggi si è spostata all'aeroporto più alla torre di Comiso. Da questa mattina circa 200 lavoratori dello stabilimento assieme ai sindacati presidiano lo scalo ragusano. Vediamo. La protesta dei lavoratori dell'indotto della raffineria Eni di Gela fa tappa all'aeroporto più alla torre di Comiso. Da questa mattina circa 200 lavoratori dello stabilimento assieme ai sindacati presidiano lo scalo ragusano. Su uno striscione è scritto 1500 lavoratori dell'indotto Eni sono a casa. Matteo aiutaci, lavoro adesso. Si chiede il rispetto dei patti sottoscritti col protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014 sulla riconversione green della raffineria e sulle bonifiche ambientali. La settimana scorsa è stata decisa una proroga straordinaria di tre mesi della Cassa Integrazione ma Cigel e Cislewil la considerano solo un pannicello caldo. Noi vogliamo che il Governo nazionale rispetti il protocollo d'intesa firmato a novembre del 2014. Chiediamo delle cose chiare. Uno, la Cassa Integrazione naturalmente per i lavoratori dell'indotto fino a quando si avviano i lavori della green e anche della piattaforma. Nello stesso tempo chiediamo anche che il Governo nazionale dia le autorizzazioni per questi tipi di attività anche e soprattutto per riqualificare il personale dell'indotto. Quindi queste sono delle cose che sono già all'interno del protocollo. È necessario comunque che si rispetti il protocollo d'intesa del novembre del 2014. Il Presidente Crocetta deve impegnarsi presso il Governo centrale a far decollare questo progetto. Non si può vivere delle mosine, non si può vivere di ammortizzatori sociali ma bisogna creare lavoro. Il lavoro si crea attraverso il Ministro dello Sviluppo Economico che ha finanziato un progetto. Questo progetto deve decollare, altrimenti le le mosine non serve. Serve creare dignità attraverso posti di lavoro. Ci sono gentile di lavoratori che hanno perso l'occupazione, non hanno nessun sostegno al reddito. Noi ci troviamo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, dentro un inganno di Stato. Nel senso che la sensazione che si ha ormai da settimane, motivo per il quale siamo da settimane in una dura protesta che non può che levarsi e arrivare a Roma, siamo stati ingannati sia da Renzi che dal governo regionale. Loro litigano e i lavoratori muoiono. Loro litigano e non assumono decisione, cioè la politica a tutti i livelli, commercio e deputati nel non fare leggi a misura di lavoratore. E i lavoratori di Gela sono ad un bivio. E lo sono insieme alla città, tanto che la protesta, vorremmo specificarlo, è anche quella dei commercianti, è quella degli studenti, è una protesta di una città di un comprensorio. I sindacati sollecitano Renzi, Crocetta e Leni per un'apertura immediata dei cantieri e la firma, finora veramente attesa, all'accordo di programma tra Governo centrale, Regione Sicilia e parti sociali che riguarda un nuovo piano industriale per il futuro sviluppo di Gela. Il prossimo 18 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico è previsto un confronto dopo gli incontri preliminari tenuti lunedì e martedì a Palermo. A pochi giorni dal congresso cittadino del Partito Democratico a Gela, Carlo Romano lascia l'incarico di Presidente dell'Assemblea Provinciale del PD e rimette la tessera al segretario Giuseppe Gallè. Una reazione all'assenza di risposte dai vertici nazionali del partito in merito all'avvertenza Eni. Un segnale forte, ha detto Romano. Settimane addietro, scritto direttamente al vice segretario nazionale Lorenzo Guerini per tentare una mediazione per la situazione del lavoro a Gela e non ho avuto risposte. E senza risposte non è possibile andare avanti. Per questa ragione ho scelto di rinunciare anche alla tessera. La decisione di Romano, ex segretario cittadino democratico, arriva a 48 ore di distanza dall'autosospensione annunciata dai consiglieri comunali del partito. Tutto questo, mentre domenica, lo ricordiamo, dovrebbe tenersi il congresso cittadino dei Democratici. E dopo gli operai dell'indotto Eni, la mobilitazione generale scatta anche tra gli agricoltori locali. Domani dalle 9 un corteo di trattori e mezzi pesanti partirà da Via Palazzi per raggiungere il Comune. Agricoltori e associazioni di categoria contestano l'aumento del costo delle forniture idriche deciso dai funzionari del Consorzio di Bonifica per andare incontro alla paventata autonomia decisa a livello regionale. Al corteo hanno deciso di partecipare gli agricoltori aderenti alle organizzazioni UPA-UNSI che è all'Associazione Santa Maria. Tra le rivendicazioni c'è anche l'abolizione del limu sui terreni agricoli e la richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale a causa della continua siccità. Una delegazione al termine del corteo incontrerà i sindaci del comprensorio e i deputati regionali. Da tempo gli agricoltori lamentano disfunzioni e anomalie, e soprattutto nella gestione delle forniture idriche che starebbero portando al declino di tante piccole e medie aziende del settore. Cambiamo argomento e parliamo della condanna all'ergastolo emessa ieri dalla corte d'assise di Caltanissetta nei confronti del gelese Vincenzo Scudera. L'uomo è stato ritenuto colpevole dell'omicidio avvenuto 29 anni fa della moglie Rosaria Palmieri che all'epoca aveva 22 anni. Il corpo non è stato mai trovato. Vediamo. Ergastolo per il gelese Vincenzo Scudera ha 58 anni. Lo ha sentenziato ieri la corte d'assise di Caltanissetta preseduta da Mario Amato. L'uomo, che si è sempre programmato innocente, è stato ritenuto colpevole dell'omicidio avvenuto nell'aprile del 1987 della moglie Rosaria Palmieri che all'epoca aveva 22 anni. Il corpo non è stato mai trovato. Scudera fu arrestato dai carabinieri di Gela il 18 luglio del 2014 in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dalla Procura della Repubblica. Scudera, dopo aver ucciso la coniugia, fece sparire nel nulla il cadavere. Quando la donna scomparve, improvvisamente, lasciando un bambino di appena 6 anni, il marito non presentò alcuna denuncia, lasciando intendere a parenti ed amici di averla invece presentata. E proprio ai parenti, che chiedevano informazioni, rispondeva che la moglie era fuggita con un altro uomo mai identificato. Pochi giorni dopo la scomparsa della consorte, Vincenzo Scudera andò a convivere con la giovane cugina della donna che nel febbraio del 1988 lo rese nuovamente padre. E fu proprio la relazione extraconugale intrattenuta da Vincenzo Scudera che lo convince ad eliminare la giovane moglie. Furono il figlio della vittima e la sua compagna, avvocato, residenti nelle Marche, a far riaprire nuovamente le indagini anni addietro, successive alle richieste di chiarimenti sulla scomparsa di Rosaria Palmieri, volte ad ottenere una dichiarazione di morte presunta per consentire la successione ereditaria dei beni in comunione tra la donna e Scudera. I carabinieri raccorsero numerose testimonianze che permisero di appurare le inconcluenze della versione ufficiale fornita dal marito. Dalle indagini emerse, come dicevamo, che Scudera aveva una relazione con una cugina della moglie, dalla quale poi avrebbe avuto un figlio. La relazione fu scoperta casualmente dalla donna, tradita grazie ad una lettera dell'amante arrivata erroneamente a casa e ad una collana trovata nelle tasche del marito, che pensava destinata a lei, ma che invece poi vide addosso alla cugina. Decisive furono le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia a conoscenza della vicenda, Marcello Sultano, Rosario Trubia, Liborio Trenito e Calogero Riggio. Scudera è personaggio già noto nel panorama criminale giolese e vicino alla famiglia mafiosa di Riesi. Fu arrestato per l'omicidio di crocifisso Emanuello, avvenuto nel 1988, ma successivamente assolto grazie alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Rosario Trubia, già reggente di Cosa Nostra Giolese. Quattro giovani di Riesi sono stati denunciati dai carabinieri per rissa, aggravata. I militari dell'arma sono stati allertati nel corso della notte perché dinanzi ad un locale pubblico del centro storico era in corso una furibondalite tra quattro uomini, quasi tutti ventenni. Giunti sul posto i carabinieri hanno trovato due persone sanguinanti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Mazzarino. Ai due sono state riscontrate numerose contusioni ed escoriazioni con prognosi di circa dieci giorni. Il ruolo quotidiano della Guardia di Finanza, il percorso formativo, le attività che contraddistinguono le fiamme gialle sono alcuni dei temi che sono stati affrontati questa mattina durante l'incontro che si è svolto nell'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. Presente il vice comandante della compagnia gelese, Gilberto Gerli, ed il tenente Nicola Bomba, tirocinante. Abbiamo parlato di come si svolge la quotidianità accademica, illustrando tutte le attività giornaliere, le sensazioni nostre. Abbiamo anche avuto il piacere di avere qui tra di noi un tirocinante che è fresco e ancora tuttora in accademia, quindi chi meglio di lui può portare l'esperienza dell'allievo ufficiale presso gli alunni della scuola. E speriamo di essere stati d'ausilio nell'ispirare magari a termine del percorso formativo scolastico speriamo la scelta per la proposizione della domanda presso la nostra amministrazione. Abbiamo illustrato il percorso formativo e universitario dell'Accademia che attualmente si svolge nel seguente modo. Una volta avuto il concorso preso per l'Accademia della Guardia di Finanza per i ruoli ufficiali l'allievo intraprende un percorso formativo che porterà al conseguimento della laurea quinquennale in giurisprudenza. Il dirigente scolastico Grazio Ribartolo. La Guardia di Finanza si è prestata a questo servizio dare un contributo alla scuola per rendere i ragazzi edotti su quello che è il servizio che congenne la Guardia di Finanza. Per cui ho accettato volentieri questa richiesta di invito a venire qua perché è giusto che i ragazzi abbiano contezza un pochettino di ciò che devono fare dopo aver conseguito il diploma. È una bella opportunità, quindi vengono motivati a questo tipo di attività. I gelesi che hanno fatto richiesta di fruire del servizio di assistenza domiciliare devono presentare entro il prossimo 12 febbraio all'Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'ISEE indicatore della situazione economica equivalente. Lo ha reso noto l'assessore comunale Servizi Sociali, Licia Abela. Il mancato adempimento agli sportelli di Viale Mediterraneo invaliderà l'istanza inoltrata lo scorso mese di gennaio da ultra 65 anni e portatori di handicap gravi ai quali è riservato il servizio di assistenza domiciliare mediante voucher sociale. E l'evoluzione della ramazza. L'aspiratore elettronico stradale testato oggi a Gela si chiama Glatton, lo strumento prodotto da un'azienda belga che lo ha diffuso in più di 56 stati con 4.500 clienti nel mondo. La dimostrazione di questa mattina è stata voluta dal sindaco Domenico Messinese che nel corso dell'ultima fiera Green Ecomondo a Rimini ha preso contatti con la ditta italiana che lo commercializza. Valuteremo se Glatton si presta alla nostra realtà per ottimizzare il servizio di spazzamento e rendere più pulita la città, dichiarato il sindaco di Gela. Oltre a polvere, mozziconi di sigarette e deiezioni canine, l'aspiratore permette la raccolta di rifiuti pesanti come bottiglie anche piene. Cambiamo decisamente argomento. A spasso con Platone, incontri con la filosofia e l'iniziativa dell'istituto comprensivo Gela e Butera con il docente Marco Traenito. C'eravamo anche noi, vediamo. Preside, una giornata educativa e formativa molto importante per gli alunni che per la prima volta assistono e interagiscono con un professore di filosofia. Sì, l'idea mi è venuta se state leggendo un rapporto che veniva dall'Inghilterra dove avevano sperimentato nelle scuole che corrispondono alla nostra secondaria di primo grado un progetto straordinario alternativo. Cioè, come si possa proporre la filosofia anche ai ragazzini più piccoli. Parlando poi con il mio amico, il professore Marco Traenito, sono fiera e onorata di avere questo straordinario amico, questa straordinaria persona di grande sensibilità, ho detto, guarda, vuoi venire sempre gratuitamente perché non abbiamo molti soldi, da me a proporre questo percorso. Proponiamolo però come se fosse in realtà un percorso di educazione ai sentimenti. L'abbiamo intitolato, un po' per sorridere, un po' perché il legame è con l'educazione peripatetica greca-socratica, l'abbiamo intitolato appunto Spasso con Platone. Ciò che vogliamo fare è appunto educare i nostri ragazzini non ai sentimenti, perché i sentimenti chiaramente sono insiti in ognuno di noi, ma a saperli giostrare bene. Ecco perché per me è fondamentale l'educazione ai sentimenti. Se partiamo da questo e poi lo allarghiamo anche i nostri genitori, considerando che c'è il problema di questa genitorialità, sanno fare bene i genitori o meno, in realtà possiamo innescare un circolo virtuoso che possa essere produttivo non solo per la mia scuola, ma probabilmente anche per ciò che è fuori dalla scuola e quindi anche per la società. Si comincia a parlare di filosofia ai ragazzini della secondaria di primo grado. Che esperienza è stata e soprattutto qual è stata la risposta dei ragazzini? L'idea è quella di far vedere ai ragazzini che la filosofia non è una materia astrusa, arcana o lontanissima da loro interessi, ma è una disciplina che risponde a domande che anche loro si pongono. E quindi abbiamo fatto vedere ai ragazzini questo discorso. E loro sono stati attenti perché hanno scoperto che le cose di cui parla la filosofia sono le stesse cose di cui parlano alcune discipline che loro già studiano, come la scienza, la storia, eccetera. La curiosità in fondo non è solo dei bambini, ma è di tutti. Certo, vabbè, c'è il famoso detto di Aristotele secondo cui la filosofia nasce dalla meraviglia e quindi i bambini che hanno questa capacità ancora di meravigliarsi sono quelli probabilmente più pronti a conoscere punti di vista diversi da quelli che hanno ereditato dall'educazione. Oggi e domani tutte le classi dell'Istituto Comprensivo Gela e Butera Scuola Secondaria di Primo Grado Enrico Mattei di Gela sono coinvolte in un corso di vela denominato Vela Scuola Il Mare Arriva in Aula proposto di intesa con la Federazione Italiana Vela e con il CONI in collaborazione con il Club Nautico di Gela. Gli alunni della Mattei inizieranno a conoscere le parti e le componenti essenziali di una barca a vela la specifica terminologia del navigare il modo di fare i nodi, i venti a maggio invece sono previste delle lezioni in mare presso il porto rifugio di Gela Sono cominciati oggi nella chiesa Sant'Agostino a Gela i sette mercoledì di San Giuseppe vengono celebrate due messe una la mattina alle nove preceduta da preghiere e canti in onore del Santo Patriarca e un'altra la sera alle ore 18 domani invece sempre nella chiesa di Sant'Agostino cominceranno i 15 giovedì di Santa Rita anche in questa occasione saranno celebrate due sante messe alle nove e alle 18 il 22 maggio giorno della festa dedicata alla Santa di Cascia presiderà una solenne messa in piazza Sant'Agostino il vescovo Monsignor Rosario Gisana con la benedizione delle rose ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale Carnevale in piazza sabato 6 febbraio prossima Gela con lo spettacolo organizzato dalla Conci Vence un'varietà di musica e moda per tutta la famiglia tra gli altri ospiti della serata saranno l'attrice gelese Maria Giannone e la pittrice nisce mese Antonella Pardo per festeggiare frittelle per tutti vediamo ospitiamo oggi l'allegra compagnia della Conci Vence siete pronti per il 6 febbraio c'è tutto lo staff praticamente devo dire che siamo emozionati lo staff e il casting della serata è quasi tutto pronto ci saranno assieme a questi ospiti che abbiamo in studio anche Paola Marotta di Amici gli angeli danzanti che sono dei ragazzi che fanno un mimo davvero strepitoso e siamo in preimitazione perché adesso manca davvero poco giorno 6 alle ore 21 dinanzi la chiesa madre io ringrazio tutti i partecipanti colgo l'occasione per dire ai genitori di portare i bambini in maschera e ai ragazzi grinta quanti sono i ragazzi che seguite al momento Giuseppe? allora i ragazzi che seguiamo sono 100 per l'occasione verranno ragazzi da Siracusa da Palermo alcuni che hanno iniziato il percorso con noi adesso fanno i presentatori in radio e tv per noi è un orgoglio e vogliono ringraziarci essendo presenti nella serata di giorno 6 e sono venuti a trovarci in studio alcuni dei protagonisti della serata di sabato prossimo li sentiamo come vi state preparando? io mi sto preparando semplicemente ad essere sicura di me stessa e non fare sicuramente brutta figura i vostri sogni nel cassetto quali sono? ad oggi avere sogni nel cassetto significa anche combattere tanto e bisogna vedere se alla fine arrivi quindi il mio sogno nel cassetto è fare la parrucchiera cioè diventare una parrucchiera però Concetta e Peppe ci stanno aiutando tanto anche nell'ambito di sfilate giochi di fuoco spettacolari per stupire grandi e piccini sì è una passione che è nata con gli anni per me nasce con l'animazione l'ho portata avanti credendoci più che altro anche per dare una svolta a livello artistico a Gela e non solo come fa Giuseppe con le sfilate e tutte cose perché oltre ad avere anche una bella città a livello architettonico abbiamo anche ragazzi che valgono e io ci credo ci credo in me e credo a tutti gli altri animazione per bambini ma divertimento per tutti voglio ricordare che a volte si dice non c'è festa senza bambini è quale occasione migliore per rendere proprio la presenza di un animatore che risalti un po' questa figura dei bambini in modo giocoso e in modo divertente anche per quanto riguarda gli adulti insieme al nostro clown allora rinnoviamo l'appuntamento orario, luogo e data allora giorno 6 alle 21 chiesa madre saremo tutti presenti vi aspettiamo tutti portate i vostri bambini in maschera perché sarà proprio un bel evento organizzato ad hoc Gela ci sarà nel cuore vi aspettiamo continuano gli appuntamenti locali organizzati dall'associazione FIAB Gela Nanocicli nell'area pedonale dei Muretti Marchitella domenica 7 febbraio prossimo sarà allestito un gazebo informativo sarà come sempre l'occasione per i cittadini di incontrare la FIAB Gela Federazione Italiana Amici della Bicicletta Nanocicli sul territorio per conoscere tutte le attività legate alla promozione della ciclabilità urbana, della mobilità sostenibile e la salvaguardia ambientale in città e a livello nazionale sarà possibile inoltre ritirare il calendario 2016 ricco di impegni e divertimento sono aperte le iscrizioni all'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia di Gela per informazioni contattare i numeri di telefono 0933914419 oppure 3407249566 oppure inviare una mail a giubbeditaliachiocciolotmail.com proseguono gli appuntamenti musicali a Palazzo Principessa Pignatelli di Gela domenica 7 febbraio alle 19 concerto pianistico a quattro mani con Sara Musumeci e Tiziana Terranova il direttore artistico della manifestazione e il maestro crocifisso Ragona Appuntamento col teatro al comunale Eschilo di Gela sabato 6 febbraio alle 17.15 alle 21.15 Maglio Dovie e Matilde Brandi si esibiranno in spettacoloso con Cosimo Coltraro e Ciro Pusateri per informazioni 0933911892 oppure 3455880580 Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo Appuntamento col teatro all'antidoto di Macchitella Gela oggi e domani alle 21.30 la compagnia Gitti Maio porterà in scena oggi sposi di Pietro Barbaro per informazioni 0933 82 27 07 oppure 338 71 43 293 termina qui il nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci a domani Grazie a tutti